C'era un'aria pesante, però venendo da fuori non è che si capiva proprio bene. Poi quando c'è stato il primo bambino che ha cominciato a perdere sensi, allora abbiamo aperto tutte le finestre, abbiamo aperto le porte. Ecco sì, ci siamo un po' resi conto della situazione. Se la sono vista davvero brutta, 27 bambini, tutti tra i 10 e gli 11 anni, tranne uno di appena un anno e mezzo, rimasti intossicati da monossido di carbonio durante una festa. L'episodio è accaduto in un sabato sera qualunque nella sala parrocchiale adiacente alla chiesa di Sant'Andrea Pigli, una frazione del comune di Arezzo. L'ambiente dove una bimba stava festeggiando il suo compleanno era stato riscaldato da stufe a gas. Nausea, mal di testa e anche perdita di coscienza, seppur breve, sono stati i sintomi che hanno allarmato i genitori e li hanno indotti a portare i bimbi al pronto soccorso. Mio figlio aveva tanto mal di testa, poi comunque era strano, era parecchio agitato, piangevano tutti, quindi c'era una situazione proprio drammatica. Tempestivamente i medici veramente in gamba della struttura si sono attivati perché tutti facessero i controlli. Purtroppo sono stati momenti per noi mamme veramente di paura. Il primo a raggiungere il San Donato è stato il piccolo di un anno e mezzo. Allora, tre di questi, complessivamente di questi bambini, compreso il piccolo che dicevo, sono a Firenze, al Meyer, per fare la trattamento, quello più importante, che è con la camera iperbarica. Mi risulta, ho chiamato poco fa la collega, che stiano andando bene e quindi avranno anche loro un percorso, se Dio vuole, senza complicazioni. Tutti gli altri li abbiamo trattati tutta la notte e ancora una parte, una seconda ondata, sono arrivati stamattina, sono in trattamento con ossigenoterapia, però stanno andando bene e per loro, grazie a Dio, non si hanno rischi come conseguenze permanenti. Grazie alla mamma della bambina che finiva gli anni. A lei mancava l'aria e di conseguenza ha aperto la finestra. Meno male che si è accorta di questo. Devo elogiare in questo caso la pediatria perché in silenzio, con tranquillità, hanno accolto tutti questi piccoli pazienti, sistemandoli a letto e tutto è andato per il meglio. Quindi veramente due parole di ringraziamento a chi stanotte ha dato la propria professionalità per risolvere questo caso non semplice.